Quando ci avviciniamo a qualsiasi consultazione elettorale, sia locale, regionale, nazionale o europea, nel nostro caso sappiamo che avremo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo il 26 maggio prossimo, ognuno, penso, si pone l'obiettivo che cosa è successo fino ad ora, che cosa hanno fatto le istituzioni fino ad ora, che cosa hanno fatto i nostri politici. Ecco che l'Unione europea per preparare i cittadini a fare una scelta consapevole ha predisposto una serie di iniziative per far conoscere ai cittadini stessi che cosa l'Unione ha fatto per loro. Lo ha fatto in varie maniere, lo ha fatto mettendo a disposizione in internet un sito molto importante che ha la denominazione What Europe Does For Me, che cosa fa per me l'Europa, il quale illustra le offerte dell'Unione europea, illustra che cosa ha fatto e che cosa può fare l'Unione europea nelle varie realtà, nei vari paesi, compresa anche l'Italia e compresa anche la realtà della nostra regione. Lo vediamo illustrando su internet come si può da parte di ogni cittadino andare nel sito e vedere che cosa l'Unione europea ha fatto. Ecco vedete ora sullo schermo l'indicazione per entrare nel sito che hanno messo in bella evidenza i nostri amici della regia Alessandra e Mirko, potete entrare in questo sito che è scritto qui in inglese What Europe Does For Me, ma come entrate evidentemente vi è la possibilità di vedere tutto in italiano. Ecco dunque appare ora sullo schermo cosa fa per me l'Europa. Fammi vedere, ecco vediamo, vi sono tre possibilità, cosa fa l'Europa nella mia regione, cosa fa nella mia vita e poi in primo piano vediamo principalmente le importanti politiche europee. Ecco dunque, allora clicchiamo nella mia regione, vedete tutta l'Europa, clicchiamo sull'Italia ed ecco che andiamo a cercare la nostra regione, qui nello spazio riservato metto Trento. Ecco vediamo Trento, per cui clicchiamo su questa immagine dove si vede un meraviglioso castello di Toblino e qui vediamo appunto Trento, quello che fa l'Europa nella regione, nel Trentino. Ecco potete leggere alcuni esempi che vengono indicati, evidentemente non c'è tutto per quanto riguarda ad esempio le reti trasfrontalieri che riguarda un po' il tunnel brand, lo vedete un'indicazione, ma vi sono poi altre realtà per quanto riguarda la mecatronica eccetera, indicazioni molto importanti. Poi per vedere in maggiore dettaglio potete andare sul sito della provincia autonoma di Trento, perché la provincia autonoma di Trento promuove interessanti iniziative per quanto riguarda il processo di integrazione europea, evidentemente gli aiuti che possono essere dati ed anche le iniziative, c'è il Servizio Europa, l'Europe Direct che svolgono attività e a riguardo nelle prossime puntate parleremo anche dell'iniziativa della provincia autonoma di Trento, siamo Europa che avrà un importante risvolto soprattutto all'inizio di maggio. Ecco dunque la possibilità di entrare nel sito dell'Unione Europea e vedere che cosa fa l'Unione Europea per noi. Al di là di questo vi sono altre possibilità da vedere, che cosa fa nella mia vita in termini generali? Ecco le varie politiche che sono svolte dall'Unione Europea e che possono interessare tutti i cittadini nell'ambito dei vari settori, ognuno sceglie qui il settore che vuole, ad esempio vediamo per quanto riguarda l'utilizzo delle carte di pagamento, ad esempio per quanto riguarda il produttore di cereali, beh questa non interessa meno, persone che cercano lavoro, ecco appunto vi è la possibilità di entrare e vedere come è possibile trovare un lavoro. Vi è poi la possibilità di entrare in primo piano dove vi sono le varie politiche europee, vi è un elenco delle varie politiche europee dalle quali potete vedere come queste politiche europee vengono organizzate e vengono attuate, ad esempio per quanto riguarda la protezione dell'ambiente aprite con questo clic e potete vedere tutte le iniziative dell'Unione Europea per quanto riguarda l'ambiente, un servizio offerto ai cittadini per informarli perché come sappiamo l'informazione è un presupposto della partecipazione. Grazie Grazie Grazie